Orbitayoga, il mio podcast, il mio viaggio intorno al mondo dello yoga, le galassie limitrofe. Eccoci qua, allora, la tematica che ho scelto oggi per me di fondamentale importanza ed è che cos'è, come sviluppare, perché è fondamentale sviluppare una pratica personale quotidiana. Intanto comincerei col capire che cosa intendo per pratica personale quotidiana. Normalmente si intende quel momento all'interno delle nostre giornate in cui srotoliamo il nostro tappetino e decidiamo di praticare yoga. E quell'impegno che ci prendiamo affinché questa cosa accada ogni giorno, quotidianamente. Per me però, un po' per il mio percorso, questo termine si è un po' allargato, è un po' andato a comprendere tante altre cose, tante altre attività. E quindi volevo partire proprio da questa premessa. Non è necessario che la vostra pratica personale sia necessariamente di yoga. Per me non è stato così, per tanti tanti anni. Per me io estenderei, diciamo, questo concetto a tutte quelle attività che vi danno nutrimento, che vi restituiscono energia invece che togliervela. Nel corso della mia vita, per esempio, la prima cosa che per me ha avuto questo ruolo è stata la scrittura. Quando al liceo non stavo bene, sentivo l'esigenza di esprimere il mio mondo interiore, la prima risposta appunto è stata quella di scrivere in versi. Non le chiamerò poesie per rispetto ai poeti, ma ecco, lo scrivere, il mettere nero su bianco quello che provavo, i miei pensieri, ha avuto un effetto incredibilmente terapeutico per me ed è stato il mio primo, primissimo approccio a questo percorso. Quando poi stavo finendo il liceo, mi sono avvicinata al mondo della recitazione, che è stata la prima grande risposta che ho dato a questo problema. Il problema di come entro in contatto quotidianamente con il mio mondo emotivo, con quel fiume sotterraneo, quell'artista interiore, per stare bene. Ecco, quando la risposta è stata al mondo della recitazione, lo è stata perché fare l'attore o studiare come attore comprende tutto un lavoro, prima, di training attoriale, che è un mare magnum che comprende tantissime cose al suo interno, dalla meditazione alla visualizzazione, al cantare, al danzare in modo sfrenato, all'interpretare ruoli completamente opposti rispetto alla tua natura. E questo ti porta a suonare delle corde che hai dentro di te, che non avresti mai pensato di poter suonare, pronunciare parole che non ti saresti mai permesso di pronunciare. E questa cosa per me è stata incredibilmente terapeutica e mi ha fatto capire per la prima volta che questo lavoro interiore doveva essere quotidiano, perché mi stava facendo così bene che avrei dovuto renderlo un lavoro quotidiano. Per questo dico che la recitazione per me è stata la prima risposta. Poi quando il mondo della recitazione per me è diventato un lavoro, ho un po' perso quel fine terapeutico che aveva prima, perché dovevo cristallizzare tutto quel lavoro interiore in forme che piacessero alle persone che mi dovevano poi assegnare il ruolo. E questo mi ha un po' allontanato appunto dalla terapia. È stato comunque un percorso affascinante, però ho dovuto cercare risposte altrove ed è lì che è arrivata la mindfulness e lo yoga. Ecco, tutta questa premessa per dirvi appunto che la vostra pratica personale può essere composta da tante azioni semplici che non necessariamente sono yoga. Le attività che vi nutrono possono essere passeggiare nella natura, annaffiare le vostre piante in modo consapevole, stando nel momento, fare un bagno caldo, danzare in modo sfrenato su una canzone chiamate, scrivere, leggere, fare yoga ovviamente, respirare, qualsiasi cosa funzioni per voi. Poi ne parleremo, ma appunto uno dei passi fondamentali è capire che cosa funziona per voi. Ecco, capito che cosa intendo per pratica personale, vorrei raccontarvi, spiegarvi, perché secondo me è fondamentale oggi più di ieri fare un percorso in questo senso, riuscire a costruirla. Come esseri umani tendiamo naturalmente, ed era già così prima della pandemia, a dare priorità, a dare maggiore importanza a quelle cose che ci tolgono energia. Il lavoro e tutte le varie cose che dobbiamo fare da adulti, le bollette, gli 7.30, la spesa, l'affitto e chi più ne ha più ne metta. Queste cose all'interno della nostra giornata hanno sempre la priorità e precedono quelle attività che invece dovrebbero ridarci energia. Il famoso detto prima il dovere e poi il piacere. Questo già era prima della pandemia. Quindi già prima della pandemia in cui avevamo un ventaglio infinito di attività di svago fra cui scegliere per darci pace, già allora era difficile farlo per una questione appunto di priorità naturali che noi diamo all'attività all'interno della nostra giornata. Quello che è successo adesso con la pandemia è che la nostra vita sembra essersi ridotta esclusivamente a lavoro e doveri, incombenze, cose da adulti. e questo è un enorme problema. È un enorme problema perché ci porta in un circolo vizioso da qui è difficile uscire. Il fatto di vedere la nostra vita ridotta a solo attività che ci tolgono energia fa sì che non ci rigeneriamo mai. Questo fa sì che ci ritroviamo a essere sempre meno produttivi, meno efficienti, meno creativi sul lavoro e questo ci porta a essere più lenti nel lavoro, a svolgerlo con più fatica e più lentezza e ci rimane sempre meno tempo per assurdo per quelle attività che ci rigenererebbero. Questo fa sì che quel poco tempo che ci rimane ci sentiamo in colpa ad usarlo per quelle attività che ci nutrono e spesso come scegliamo di usarlo? Scrollando il social preferito che sia Instagram, che sia Facebook e questo non fa che aumentare il nostro senso di inneguatezza e alimentare ancora di più questo circolo vizioso. Ecco perché oggi più di ieri è fondamentale capire che per spezzare questo circolo vizioso è necessario innescarne uno virtuoso fatto di pratica personale quotidiana. E come si fa? Come costruire questa pratica? Perché è difficile, lo sappiamo tutti, quando siamo di buon umore è facilissimo, siamo già motivati ad agire e quindi agiamo anche nel fare quelle attività che ci fanno stare bene. Quando non siamo di buon umore ed è quello che spesso ci capita in questo circolo vizioso che stiamo vivendo, è difficilissimo trovare la motivazione, anzi la motivazione non esiste per deciderci ad agire e quindi dobbiamo creare un'abitudine. È l'unico modo per riuscire ad agire comunque, a rompere quel circolo vizioso e quindi a innescarne uno virtuoso e poi a stare bene. Come si fa? Il mio consiglio principale è iniziare dal semplice. Torno un attimo nell'ambito dello yoga perché è l'ambito in cui in questo momento mi sento di parlare con maggiore sicurezza. Se la nostra se l'azione che ci nutre che ci fa stare bene che ci rigenera è lo yoga non imponiamoci di praticare 60 minuti ogni giorno e magari una pratica di yoga dinamico complesso difficile fisicamente estenuante perché? Perché non sarà sostenibile ogni giorno e noi cerchiamo invece un'attività che ci faccia lavorare su noi stessi ogni giorno. Non a caso sul mio canale YouTube ci sono tantissime pratiche sotto i 15 minuti perché capisco l'importanza di renderla una pratica quotidiana. è fondamentale ed è quello che vi invito a fare partite dal semplice partite da quelle quando scegliete che la vostra pratica sia una pratica di asana il mio consiglio è anche quello di imparare alcune sequenze a memoria brevi che può essere semplicemente il saluto al sole il saluto alla luna o delle piccole sequenze che avete visto su YouTube che vi hanno fatto stare bene perché? perché conoscere alcune sequenze a memoria fa sì che le possiate praticare in qualsiasi momento senza una guida esterna potendo mettere la musica che desiderate potendo praticare ad occhi chiusi potendo veramente ascoltarvi interiormente lo yoga è incredibile perché unisce mente corpo e respiro e il mio invito è di non fare che lo yoga diventi una ricerca di forma che spesso è quello che accade con lo yoga che guardiamo su Instagram vediamo una posizione bellissima e vogliamo riprodurla va benissimo fatelo ogni tanto ma non è quella la pratica yoga che vi rigenererà quella pratica yoga che vi ridà energia è quella pratica che fate occhi chiusi ascoltandovi col vostro respiro e il vostro corpo quella è la magia ricordate poi che lo yoga non è solo composto dagli asana dalle posizioni è composto anche dal respiro e dalla meditazione una pratica di 5 minuti di respiro va benissimo una pratica di 5 minuti di meditazione è eccezionale anche stare seduti su una sedia con una mano sulla pancia una mano sul cuore e sentire il respiro che muove il corpo e sentire come sta il corpo e mandare il respiro nelle zone tese quello è già un lavoro eccezionale che vi farà ritrovare il centro che vi farà che vi permetterà di occuparvi di voi bene detto questo vi voglio lasciare con alcuni compiti che vi rendano un pochino più facili la costruzione della vostra pratica personale il primo compito che voglio darvi è di prendere un foglio bianco e scrivere le attività che funzionano per voi le attività che vi danno nutrimento che vi fanno stare bene fatene proprio più un elenco il secondo compito che vi do è alla sera arrivati alla sera riflettere o ancora meglio scrivere a quale di queste attività avete dato spazio e come vi ha fatto sentire questo darà a quei momenti importanza e vi permetterà anche di fare un bilancio alla fine della settimana alla fine del mese di quanto siete riusciti a prendervi cura di voi come questo vi ha fatto sentire e penso che potrebbe aiutarvi tantissimo a continuare a trovare la motivazione di farlo davvero ogni giorno un altro strumento che vi voglio lasciare sono dei libri i libri sono un ottimo strumento ce ne sono diversi ma vi voglio dare i miei tre preferiti sono molto gelosa dei miei libri ma ma voglio ci tengo veramente ad aiutarvi in questa cosa il primo libro è un libro che a suo tempo mi diede la mia psicologa è di Mark Williams e Danny Penman spero di averlo pronunciato bene si chiama Metodo Mindfulness 56 giorni alla felicità ecco questo libro è stato il mio primissimo approccio alla mindfulness ed è molto interessante perché è un programma diviso in settimane che vi porta a conoscere la mindfulness e a farne appunto una pratica quotidiana può essere interessante a prescindere dal fatto che voi scegliate di seguire il programma nella sua interezza perché è pieno di brevissime pratiche che potreste rubare e utilizzare come la vostra pratica della giornata quindi è uno spunto interessantissimo per trovare qualcosa che funzioni il secondo libro che vi voglio consigliare anche questo eccezionale anche questo un programma in settimane è La via dell'artista di Giulia Cameron come ascoltare e far crescere l'artista che è in noi questo libro è simpaticissimo intanto perché all'inizio vi propone proprio di stipulare un contratto con voi stessi che alla fine è quello che vi chiedo di fare anche io di stipulare un contratto di impegno con voi stessi di fare questo lavoro interiore e per riuscire a vederne i risultati che saranno fidatevi eccezionali nel suo programma lei vi insegna come entrare un po' in contatto con l'artista che è dentro di voi che è un po' un altro modo per dire come entrare in contatto col vostro mondo interiore con quello che c'è al di sotto con il fiume che scorre che ha bisogno in qualche modo di essere veicolato e di essere espresso e lo fa attraverso un metodo strutturato che anche qui potete rubare a pezzi o svolgere nella sua interezza e vi assicuro farà la differenza il terzo consiglio che vi do è un pochino più particolare è il libro che sto che sto seguendo in questo in questo periodo mi sta mi sta facendo un po' da guida e costituisce la mia pratica personale in questo periodo ed è La saggezza del Tao di Wayne Dyer come cambiare modo di pensare per vivere meglio perché è interessante questo libro questo libro è interessante per come è composto lui fa un'analisi di ciascun capitolo del Tao e il libro è strutturato proprio per essere letto a capitoli un capitolo al giorno o un capitolo ogni tanto ogni capitolo è lungo tre o quattro pagine quindi vi vi richiede un impegno veramente di una decina di minuti ed è interessante perché è composto così Tao quindi lettura del Tao analisi veramente breve ma dettagliata del contenuto del Tao come portare quello che abbiamo letto all'interno della nostra vita e come riflettere sulla nostra vita attraverso quello che abbiamo letto ed è quindi uno spunto in 81 giorni per lavorare su di sé per fare una riflessione su di sé e riflettere su su di noi prenderci il tempo per appunto ascoltarci per capirci meglio è tutto quello che possiamo chiedere dalla nostra pratica quotidiana quindi questo è un altro spunto interessantissimo se siete appunto attratti dall'argomento questi sono i miei tre consigli di lettura e con questo ho finito vi vorrei lasciare oggi con una citazione la mia citazione preferita oserei dire ed è una citazione tratta da Italo Calvino le città invisibili un libro che al liceo mi hanno imposto di leggere e che ho adorato alla follia quelle famose volte in cui i professori di italiano ti aprono mondi ecco Calvino in questo in questo passo delle città invisibili dice che l'inferno dei viventi è quello che stiamo vivendo già adesso e che ci sono due modi per non soffrirne leggo il primo riesce facile a molti accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui cercare e saper riconoscere chi è cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio mi piaceva chiudere così perché questo è il mio invito per voi capire chi è cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio io vi ringrazio infinitamente per essere stati con me oggi per avermi ascoltato spero che questa puntata vi sia piaciuta se fosse così fatemelo sapere con un mi piace o con un commento e noi ci vediamo al prossimo episodio di Orbita Yoga grazie a tutti